Due squadre, due nazioni, Giappone e Paraguay, inseguono un sogno, entrare per la prima volta nella loro storia nei quarti di finale di un mondiale di calcio dal Loftus Westfeld di Pretoria. Un buon pomeriggio da Maurizio Compagnoni. Antonio Gennaro. Il numero di Santa Cruz, l'esterno, la porta è vuota, la politica di Kawashima. Se lunga il pallone, sulla ripalla arriva Matsui, che va al tiro, Matsui, traversa. Il buon pomeriggio, la palla resta lì, Santa Cruz, il sinistro. Battendo invece il suo cross, secondo palo, col fuori testa. Con il tiro, onda. Guarda di rigore, Peritez, parta a calciare. Battendo nella mucchio, Tanaka. Okazaki, il tiro cross. E questo al fondo, l'antissimo Soguku. Finiscono i 90 minuti, più tre di recupero. Si va ai tempi supplementari. Morel, qual in aria, Barrios. Onda in porta. Cross verso Onda. Si va ai calci di rigore. Comaro traversa. Cardoso, Rete, il paraguai nei quarti di finale del mondiale.